salve a tutti ragazzi sono inferno 86 sono qui oggi per farvi vedere la mia email e sono qua per farvi vedere la mia email perché ho scaricato una cazzo di applicazione di merda che si chiama cash bribe pensando io povero italiano testa di cazzo che si potessero guadagnare soldini solamente aprendo le email senza neanche leggerle come dice il piccolo annuncio che compare ogni tanto su youtube e su altri siti invece cash bribe dopo che io gli ho scritto che sono dei truffatori è una truffa non cascateci io l'ho fatto verso voi ragazzi perché non voglio che ci cascate su queste cose qua e loro mi hanno scritto mi dispiace per lei ma lunedì attraverso i nostri legari provvederemo a una denuncia formale nei suoi confronti per diffamazione cordiali saluti ma ci rendiamo conto ragazzi cioè io ho scaricato questa applicazione qua per fare non dico chissà quali soldi magari qualche soldino in più io di solito faccio questi su amazon quindi un po di tempo fa avevo un'applicazione che si funziona più su questo smartphone e ho cercato di trovare qualcos'altro quell'applicazione ma sempre dato buoni amazon e ho fatto un casino di acquisti o comunque ho risanato degli acquisti magari usando dei bonus lì per non pagare tutta la cifra intera ho detto ciam proviamo ne ho provate tante proviamo anche questa scarico l'applicazione mi chiedono tutti i dati ambaradam cc cocco poi mi chiedono il conto bancario io il conto bancario non ce l'ho un post e pay e ho messo il mio post e poi ho detto magari si guadagnano soldi abbastanza in fretta perché sono un grandissimo coglione vado per guardare nella mia email e non vedo email allora rientro nell'applicazione e ci sono delle mail con su scritto apri questa email e guadagni questo ho detto un cazzo vado dentro apro e c'era cinque euro non dico bella poi vado sotto e dice vai devi contattare questo agente pubblicitario per farti di contattare se no è il come si dice scusate sono incazzato mi impappino se no la tua la tua il tuo credito non verrà inserito nel nel tuo conto bancario dico vabbè entro dentro inserisco i dati tutto per farmi contattare cosa mi compare mi dice mi dispiace la tua offerta non può non ha non è andata a buon fine ci scusiamo per il problema ok evito ne compri un'altra da un euro su faccio la stessa cosa e mi esce lo stesso messaggio ne provo un'altra e mi esce lo stesso messaggio e io cosa devo pensare ragazzi io sono stato un coglione che ho inserito i miei dati dentro però porca puttana non puoi venire a dire che non siete dei truffatori di merda cioè io ragazzi io voglio che questo video qua diventi virale deve diventare virale perché tutti devono sapere che cash bribe è una massa di truffatori se io per questo video vengo denunciato non me ne fotte un cazzo non me ne fotte un cazzo casomai lo elimino da youtube ma voglio che questo video ragazzi diventi virale perché non è possibile che queste teste di cazzo se ne approfittino della povera gente e poi ti denunciano perché cosa vogliono da me dopo io gli ho risposto gli ho scritto cosa voi denunciate me per difamazione e voi che mettete gli annunci su youtube dicendo che basta aprire le email anche senza leggere per guadagnare crediti e questa non è una truffa che poi quando uno scarica l'applicazione è costretto a mettere sui dati bancari e farsi contattare gli agenti pubblicitari per far sì che credito vengono approvati questa è una truffa bella e buona denunciatemi pure tanto io sono nulla tenente nulla facente è vero ragazzi io non ho un cazzo quindi se mi vogliono fare qualcosa denunciatemi che cazzo ne frega cosa prendete venite a prendere un pugno di mosche infatti l'ho scritto l'unica cosa che otterrete da me sono un pugno di mosche tanti insulti infatti se ne becheranno tanti cordiali saluti e vaffanculo e loro mi hanno scritto mi hanno dato la loro risposta le sue affermazioni salve le sue affermazioni verranno sottoposti agli atti giudiziali del nostro ufficio legale verrà contattato nei prossimi giorni dai nostri avvocati prima della convocazione al tribunale di milano cordiale saluto il team crash prime ma cash prime non è gay pride non c'entra niente vabbè e niente ragazzi sono io sono incazzato nero come una iena perché si va bene ho scritto un commento non è che ho scritto che sa che cosa ho scritto solamente truffatori è una truffa non cascateci non ho diffamato non ho detto che avete ammazzato qualcuno siete dei truffatori è vero ho detto la verità se andate a vedere tutti i commenti che ci sono sul google play è pieno pieno di gente che si è lamentata di persone che dicono la mia stessa cosa denunciateci tutti cosa pensate di ottenere voi non otterrete niente voi cercate di approfittarvi della gente poi denunciate per cercare di prendere soldi così ci guadagnate voi invece di farci guadagnare a noi come dite ci volete ci volete guadagnare voi ma vaffanculo ma vaffanculo vabbè ragazzi io voglio che questo video qua diventi virale voglio che tutti sappiano cosa significa scaricare un'applicazione di merda come cash prime e subire quello che sto subendo io perché chissà quanti altri hanno subito non sarò l'unico spero che chi guarderà questo video saranno altre persone che hanno subito questa cosa qua e voglio veramente questo video diventi virale per avvisare tutte le persone che ci truffano davanti ai nostri occhi vabbè ragazzi io chiudo qua tutto l'ambaradam il discorso il teorema tutto quello che ho detto tutto quello che ho scritto che dirvi ragazzi come sempre vi ringrazio per la visione del video e vi ricordo di mettermi mi piace ed iscrivervi al mio canale ciao a tutti dal vostro inferno 86 alla prossima e non fidatevi non fidatevi mi raccomando